Un altro importante segnale, almeno così sembrerebbe, per invogliare la Fiorentina a volgere e concentrare ulteriormente il proprio sguardo sulla piana per costruire il nuovo stadio. L'incontro avvenuto in regione tra il sindaco di Campi Emiliano Fossi e l'assessore all'urbanistica Vincenzo Ceccarelli ha prodotto esito positivo, proprio come indicato dal primo cittadino sulle piattaforme social. E dunque diventa sempre più difficile poterlo negare. È ufficialmente partito l'itero amministrativo che porterà alla conferenza di copianificazione, ossia l'istanza che può essere attivata da un comune in base all'input di voler occupare un nuovo suolo, assieme alla città metropolitana e agli altri enti coinvolti, che dovranno poi dare l'ok entro 90 giorni per l'approvazione della variante urbanistica. Segnato il primo punto, nei prossimi giorni si dovrà approfondire l'argomento per valutare quale potrebbe essere la miglior strategia amministrativo procedurale da seguire per cambiare la destinazione d'uso dei terreni di via Allende. Secondo l'assessore Ceccarelli, quattro le opzioni per arrivare alla realizzazione di tale opera che richiederebbe un notevole intervento a livello urbanistico e infrastrutturale. L'approvazione della variante ordinaria, l'approvazione di un piano strutturale ed operativo che il comune di Campi sta portando avanti parallelamente, far valutare lo stadio come opera pubblica accorciando così notevolmente i tempi ed infine, quarta ed ultima, aspettare eventuali novità dal decreto semplificazione che a breve sarà promulgato.